ciao ragazzi questo questo è un tutorial per yook65 visto che mi ha chiesto come eliminare la diretta che ha fatto però è ancora lì non lo so perchè va bene comunque se vuoi eliminare la tua diretta vai sul tuo canale ok vai sul tuo canale ok questo è il mio vecchio canale questo è il mio vecchio canale ma non faccio più video ma insomma sono indicato di sloggarmi mi sono indicato di sloggarmi va bene ok eccoci qua allora vai sul tuo canale tuo canale allora dopo vai su creato studio youtube studio vai sul video e qua c'è caricamenti e pubblicati ovviamente vai su pubblicati ok poi vai qua sui tre puntini e vai elimina definitamente ok elimina video ok a posto ragazzi niente questo video provvisorio raccomando non serve mettere mi piace non so se questo video arriverà al diretto interessato e comunque ragazzi va bene raccomando iscriviti al canale eccetera 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 va bene ragazzi ciao a tutti e buona giornata